benvenuti in un nuovo video di quadricottero news eccoci con il mavic 3 pro abbiamo appena visto la batteria che è esattamente la stessa del mavic 3 e del mavic 3 classic l'ho appena tirato fuori dalla scatola per fare la recensione e voglio aggiornare il firmware vicino vediamo il djrc pro che è in dotazione a questa configurazione a questo allestimento ve ne parlerò nella recensione nel frattempo controllo se c'è un aggiornamento del firmware e vediamo che da errore del server un errore che stanno riscontrando in tantissimi in questi giorni quando provano ad aggiornare nel frattempo vedo che c'è un pallino rosso sulla voce informazioni ed è l'aggiornamento della dj fly alla versione v 1.10.1 a pochi giorni dal rilascio dalla 1.10 si tratta di aggiornamenti che riguardano la soluzione di alcuni bug quindi aggiorno e la dj fly in effetti funziona l'aggiornamento funziona e allora la installo vediamo che uno dei vantaggi del djrc pro è quello che si possono installare app terze parti infatti qua c'è preinstallato firefox ma volendo posso anche installare app terze parti come ad esempio lici drone link e via dicendo qua siamo nel menu di configurazione ci sono svariate voci tra l'altro il djrc pro ha un display da mille nit di luminosità ma voglio riprovare ad aggiornare stavolta da dentro la dj fly questo è l'avviso airsense mi chiede se voglio abilitare il rilevamento degli aerei nei paraggi aerei che hanno il dispositivo adsb acceso non tutti lo hanno acceso quindi attenzione in pratica se un aero un elicottero alla dsb trasmettitore adsb acceso questo sistema lo rileva allora prova ad aggiornare firme del drone ho ancora la vecchia versione prima ancora del lancio vediamo se c'è quella nuova e niente anche qua errore del server ripeto un errore che stanno riscontrando in molti probabilmente dovuto ai server dj intasati riprovo dalla voce profilo vediamo qua aggiornamenti del firmware e anche qua errore del server attendere qualche minuto e allora ho risolto ma come ho risolto semplice sono andato a scaricare l'ultima versione di assistant 2 per droni consumer dalla pagina del sito ufficiale dj l'ultima versione v2.1.18 che è l'unica che vede il mavic 3 pro essendo nuovo ho collegato il mavic 3 pro direttamente al computer con il cavetto usb di tipo c e ho proceduto all'aggiornamento questa è la pagina che ottengo adesso se mi collego e cioè la nuova versione 0101 0100 rilasciata il 25 aprile quindi se in questo momento voglio posso fare un refresh del firmware ma non devo fare altro perché ho già l'ho già installato quindi ho risolto pertanto a chi riscontra questo problema consiglio di provare anche con il dji assistant 2 adesso che ho aggiornato il firmware posso iniziare con la mia recensione vediamo una piccola anticipazione questa è la differenza tra i due mavic 3 e mavic 3 pro indubbiamente spicca il gimbal camera tre camere contro due guardate che grande rispetto a quello del mavic 3 nei precedenti video abbiamo visto che la camera principale la asser blood è uguale per entrambi così come per il mavic 3 classic guardate come sporge il gimbal camera sul mavic 3 pro proprio perché è decisamente più grande grazie alle nuove ottiche e vediamo allora questo è il mavic 3 pro vediamo subito la principale differenza vedete lo zoom sto zoomando progressivamente 3 per 4 per vedete 7 per continuità questo invece è il mavic 3 provo a fare lo zoom modalità explorer va avanti 1 e 6 1 e 7 arriva 2 arriva 3 arriva 4 ecco che scatta 7 sul mavic 3 non è possibile fare uno zoom a 5 da 4 a 7 c'è un buco c'è un vuoto che invece è colmato dal mavic 3 però grazie alla nuova camera tele 3 per che poi la principale differenza ma ci sono anche altre differenze che sto scoprendo e ve ne parlerò nella mia recensione bene per ora è tutto fatemi sapere che impressione avete sul mavic 3 pro nel frattempo vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto così anche da non perdere la mia recensione finale sul mavic 3 pro se siete interessati a questo drone grazie a tutti buona continuazione e al prossimo video con quadricottero news